buonasera buonasera benvenuti grazie della pazienza cominciamo un po il ritardo che non è da noi ma ahimè la pioggia ha voluto come dire rallentare un pochino le cose quindi ufficialmente benvenuti a questa tappa del festival biblico dal vivo nel mese di maggio cominciato dal 5 maggio e terminerà il 29 e dicevo questa tappa vicentina in concomitanza con la sede di padova sapete che il festival è alla sua diciottesima edizione quindi all'età della una sorta di maturità maggiorenne giusto signora maggiorenne e sono coinvolte le sedi di vicenza verona padova rovigo vittorio veneto e treviso che nell'arco di questo weekend hanno realizzato come noi alcuni appuntamenti dal vivo oltre a 21 città in provincia di queste quindi insomma siamo tanti siamo affollati e siamo lungo tutta la regione veneto però cominciamo subito vi chiedo come dire la pazienza di due minuti davvero dove il nostro presidente don roberto tommasi per la diocesi di vicenza a cui chiedo di salire qui al mio fianco ci introduce a questa edizione vicentina e soprattutto anche alla scelta di questo criterio tematico del libro dell'apocalisse prego del roberto grazie buonasera a tutte e a tutti ecco io prendo la parola anzitutto per dare a nome della diocesi e anche della società san paolo che sono i due enti promotori di questo percorso del festival biblico che come roberta ha appena detto e si realizza poi ormai in moltissimi territori e città del nostro veneto volevo darvi il benvenuto ringraziarvi della vostra presenza anche a nome di tutto lo staff volevo ringraziare i volontari che ci aiuteranno a vivere bene queste giornate e volevo ringraziare anche il vescovo che per il secondo anno anche se non può essere presente perché in questi giorni a roma ci ha aperto questo giardino molto bello e anche il chiostro della sua residenza dove noi avremo diversi degli incontri del festival il tema lo conoscete e vidi un nuovo cielo e una nuova terra il versetto 1 del capitolo 21 di apocalisse prendere in mano il libro di apocalisse l'ultimo libro della bibbia è una scelta un poco coraggiosa perché tra i libri della bibbia non è sicuramente più facile è ricco di tanti simboli di tanti temi anche di elementi conflittuali che sono difficili da comprendere ma saremo aiutati da persone competenti sia nelle sacre scritture sia nella vita della società e del mondo di oggi i primi ci aiuteranno a comprendere un po di più a introdurci nei messaggi di questo libro gli altri ci aiuteranno a vedere come questi messaggi se questi messaggi sono attuali oggi se ci aiutano a scoprire il senso e il non senso delle cose che stiamo vivendo quando abbiamo pensato a questo tema noi avevamo in mente l'uscita dalla pandemia poi ci è capitata come si dice qui fra coppa e collo questa guerra che è così difficile da decifrare e anche da accettare ecco questo è il contesto nel quale noi ci avviciniamo con umiltà a questo libro per trovare motivi di speranza nel sostenere le parti del bene e della pace in un mondo e in un'esperienza di umanità dove sempre il bene e il male la pace e la guerra si confliggono e si confrontano in modo da non perdere la speranza una speranza umile e coraggiosa buon festival a tutti che possa essere un incontro interessante ed efficace con le pagine di questo libro un'occasione per pensare e amare il tempo che stiamo vivendo e la vita che ci è stata donata grazie e buon festival grazie dunque a don roberto e possiamo cominciare abbiamo deciso di cominciare questo weekend lungo in qualche modo dal giovedì sera con quello che abbiamo denominato dallo scorso anno il ciclo biblico giorno e notte riprendendo il versetto di giosuè che dice stai sulla parola giorno e notte perché solo così avrai in qualche modo successo cioè successo quello che tu chiedi desideri cerchi perché la parola ha qualcosa da dire e allora noi affrontiamo questo percorso di conoscenza del libro dell'apocalisse in cinque appuntamenti condotti e se siete qui già lo sapete da gabriella caramore allora chiedevo qualche giorno fa gabriella ma come posso presentarti mandami una tua biografia dammi qualche indicazione e mi manda qualche notizia qualche indicazione ma in realtà poi mi ha detto fai tu decidi tu allora io dico che gabriella è qui perché è una cara amica del festival e ci vogliamo bene con gabriella prima ancora che ricordare a tutti voi che gabriella ha condotto per molto tempo uomini e profeti la storica trasmissione suraria di o tre dove ha fatto in modo di mettere assieme di incontrare voci diverse diverse estrazioni mettendo a fuoco il pensiero il senso del pensiero della vita religiosa tenendo comunque come punto focale sempre uno sguardo sulla contemporaneità sulle figure del passato e anche su quello del nostro tempo facendo in modo che i non credenti potessero in qualche modo avvicinarsi alle tematiche religiose e molti credenti rivedere il proprio rapporto con la fede dai suoi libri ricordiamo parole contro tempo pazienza la vita non è il male e la parola dio di un audi del 2019 allora gabriella caramore prego ce l'abbiamo fatta allora grazie e intanto grazie anch'io ringrazio per questo bellissimo giardino è veramente è una festa del il cuore stare in un posto così si ricomincia a respirare veramente proprio bello bello e grazie per essere ospitati qui e naturalmente anch'io come è stato detto prima trovo importante che il festival biblico giunto alla sua diciottesima edizione voglia chiudere questa serie di incontri quindi chiudere questo anno con un libro della bibbia il libro che chiude tutta la bibbia cristiana il libro dell'apocalisse ma non soltanto perché il libro dell'apocalisse ma perché ecco tematizzare mi sembra che sia la prima volta che il festival biblico invece di scegliere un tema che adesso non ricordo ma insomma potrebbe essere la giustizia la misericordia o altri temi presenti nella nella bibbia nella tradizione ebraico e cristiana ecco invece chiudere però con l'analisi di un libro mi sembra importante perché perché se uno si dice cristiano o ebreo o buddista o un'altra cosa deve sapere qual è il suo fondamento e io ho l'impressione che a volte i fedeli di qualunque religione nei secoli si sono un po' persi questa motivazione e invece andare a vedere un libro puoi cominciare da lì per approfondire e quindi capire che cos'è, capire da che contesto viene, capire perché è stato scritto, che cosa ha inteso dire è importante per rivedere il proprio fondamento per non così accedere a una fede astratta e piantata su delle sabbie mobili ma andare a vedere e a conoscere i fondamenti ancora più importante è la scelta dell'Apocalisse perché voi lo sapete l'Apocalisse è un libro molto particolare a volte anche un po' respingente perché noi non riusciamo, non abbiamo più i riferimenti che avevano i lettori dei primi secoli dell'era cristiana per cui non sappiamo che cosa sono non ci dicono niente quei sigilli, quelle trombe, quelle coppe quella bestia che viene dal mare, quella bestia che viene dalla terra se non ci vengono spiegati e se non ci vengono decodificati allora intanto vi voglio rassicurare, poi voglio dire un altro paio di piccole cose perché abbiamo qui un biblista che è Don Claudio Doglio che è uno dei maggiori studiosi italiani dei testi biblici e in particolare dell'Apocalisse ha curato e tradotto questo volume e io lo cito non soltanto perché c'è qui Claudio Doglio ma perché tutta la collana mi è stata molto utile nel lavoro di Uomini e Profeti si chiama, è della San Paolo si chiama Nuove traduzioni della Bibbia dai testi antichi e è una collana molto bella, molto accessibile molto utile per capire qualunque libro biblico perché non solo è molto accurata la traduzione c'è un'introduzione storica che aiuta a collocare il libro nella sua origine nella sua storia ma poi ha un doppio livello di commento c'è un commento molto filologico per chi voglia approfondire perché abbia magari qualche nozione di greco biblico o di ebraico biblico o anche semplicemente chi voglia seguire con curiosità alcune parole e poi c'è un commento più invece filologico esegetico che aiuta a capire il significato e il senso del testo ecco ma volevo dire molto rapidamente un paio di cose ecco perché ecco l'Apocalisse cioè uno dei problemi che poi vorrei sottoporre a Don Doglio è appunto che noi ci troviamo anche noi in un tempo che sembra finire ci troviamo di fronte a un tempo che come dire ci viene da pensare che siamo arrivati proprio al culmine della nostra epoca e però dove troviamo le radici della speranza? le dobbiamo a tutti i costi cercare però è anche vero che l'Apocalisse ci presenta ci prospetta un orizzonte di luce, di gloria di risoluzione della storia ecco noi questo non riusciamo a vederlo e allora ci può indicare comunque qualcosa questo è un tema di cui dibatteremo dopo dopo aver sentito appunto qualche delucidazione su come leggere questo libro la seconda cosa ve l'anticipo è che forse dobbiamo anche pensare cioè ma questo lo dico perché cioè se uno legge questo libro e viene respinto da qualcosa dopo averne capito le ragioni forse non è detto che dobbiamo accogliere tutto dobbiamo un po' come dire sottoporre a vaglio critico quello che ci viene proposto e quindi forse anche qui dovremo farci aiutare da chi conosce bene il testo per capire che cosa possiamo trattenere che cosa eventualmente possiamo lasciar cadere perché nasce in un altro tempo in un'altra storia e poi la storia è cambiata certo la parola di Dio è eterna ma non è eterno il modo di accoglierla e il modo di raccontarla allora io chiamo il professor Claudio Doglio e lo invito a venire e a portare a termine questo compito difficile di spiegarci che cos'è l'Apocalisse e come interpretare questo libro grazie per la presentazione grazie per l'occasione che mi offrite di presentare questo libro biblico che non è decisamente facile e in 30 minuti difficilmente riuscirò a renderlo facile mi accontento quindi di presentare alcuni possibili sentieri per leggere e forse fornire qualche chiave per aprire queste serrature così difficili dell'ultimo libro del Nuovo Testamento l'Apocalisse di Gesù Cristo secondo Giovanni è un testo di consolazione e di incoraggiamento non è un annuncio di sventura non è la previsione della fine del mondo il genere letterario apocalittico non nasce con Giovanni ha preso il nome a partire proprio da questo libro l'hanno inventato l'hanno inventato i tedeschi alla fine del Settecento inizi dell'Ottocento però il genere letterario esisteva già da secoli prima di Giovanni ed era un genere letterario rivolto a gruppi minoritari in situazioni di crisi conteneva conteneva un messaggio di incoraggiamento per comunità credenti oppresse da una situazione storico-sociale contraria e quindi gli autori apocalittici adoperavano questo modo a noi sembra un po' strano di esprimersi proprio per incoraggiare ma erano enigmatici nella formulazione perché si rivolgevano a piccoli gruppi che avevano la chiave di lettura e non era un discorso plateale doveva essere riservato ad un gruppo di studiosi è un ambiente sapienziale quello che vede nascere il genere apocalittico e la comunità giovannea è un gruppo sapienziale le informazioni che abbiamo sui libri legati al nome di San Giovanni vengono proprio dall'Apocalisse perché né il quarto Vangelo né le tre lettere riportano il nome di Giovanni né dicono il luogo in cui sono stati pensati e composti troviamo queste indicazioni storico-geografiche nel libro dell'Apocalisse e quindi collochiamo l'ambiente giovanneo nella città di Efeso verso la fine del primo secolo Efeso era una capitale del mondo antico un luogo di grandissima cultura e un centro religioso di primo ordine e conservava una delle sette meraviglie del mondo antico il grande tempio della dea Artemide che in qualche modo era considerata la physis la natura ed era un centro filosofico religioso anche di tipo magico luogo di pellegrinaggio di devozioni religiose ambiente di studio e di grande cultura i primi filosofi della tradizione greca sono di ambiente efesino cinque secoli prima di Giovanni in quell'ambiente si faceva filosofia e Giovanni è arrivato in quella città ellenista con il suo bagaglio biblico ed ebraico ed è entrato in una nuova cultura e ha dato vita ad una comunità vivace che riconosceva in lui il testimone il discepolo che rende testimonianza l'autore della tradizione autore nel senso latino di auctor colui che fa crescere che ha conservato e trasmette quindi in questo senso lato Giovanni il discepolo che Gesù amava è l'autore dei cinque libri che compongono il corpus Ioanneum di cui fa parte l'Apocalisse poi se è stato effettivamente lui a stendere tutti i testi non lo possiamo dire né in senso affermativo né in senso negativo e quindi ci accontentiamo di quello che la tradizione ci ha riportato riconoscendo in lui l'autore il testimone che visse in prima persona una esperienza dolorosa e straordinaria l'Apocalisse è presentata come una lettera mandata da un uomo anziano e relegato in un'isola confinato perché testimone di Cristo perché predicatore del Vangelo e quindi è lui stesso vittima di un potere forte che lo blocca e vorrebbe isolarlo mentre si trova isolato adopera il sistema letterario per entrare in contatto e in comunicazione con le sue chiese con le varie comunità che abitano in Efeso che è la metropoli ma anche a Smirne a Pergamo a Tiatira a Sardia a Filadelfia la Odicea sette per dire tutte e così entriamo nel linguaggio criptico dell'Apocalisse che adopera i numeri non in senso aritmetico ma in senso simbolico e questa lettera nasce da una esperienza mi trovai preferisco tradurre mi ritrovai nello spirito mi ritrovai nell'isola chiamata Patmos in un giorno di domenica ma soprattutto mi ritrovai nello spirito adopero nella traduzione proprio questa espressione in senso dantesco in fondo l'esperienza originaria di Giovanni a Patmos è un po' un'esperienza di selva oscura in cui il discepolo ritrova se stesso in greco si adopera il verbo egenomen laoristo del verbo divenire non possiamo tradurre divenni mi trovai venni a trovarmi e quando c'è poi il complemento di stato in luogo va bene mi ritrovai nell'isola di Patmos e nel giorno di domenica ma dire venni a trovarmi nello spirito è qualcosa di più è un ritrovare il senso della propria vita ricomprendere il senso della storia attraverso l'esperienza dello spirito l'esperienza dello spirito in giorno di domenica equivale a incontrare il Signore risorto Giovanni da ragazzo aveva vissuto con Gesù era corso al sepolcro vuoto quel mattino di Pasqua lo aveva incontrato personalmente nel cenacolo più volte poi dopo l'ascensione Giovanni ha continuato a vivere per oltre 70 anni vivendo di quella esperienza fondamentale che ha fatto ma trovandosi in una situazione storica sociale politica che sembrava contraddire totalmente quello che aveva sperimentato e creduto e creduto l'Apocalisse nasce come rivelazione addirittura potremmo dire come ultima apparizione pasquale del Cristo risorto che si fa presente ad un suo amico 70 anni dopo per aiutarlo a comprendere il senso della storia che sta vivendo e a rendersi conto che non si è sbagliato che ha creduto correttamente in Gesù e che davvero l'agnello immolato è il vincitore è il sovrano dei re della terra in quel giorno del Curios Giovanni dice di avere fatto l'esperienza del Cristo glorioso in tutto il nuovo testamento il termine domenica ricorre solo nell'Apocalisse ed è proprio in questo contesto Kyriache è mera Kyriache è l'aggettivo da Curios è il giorno del Signore però il giorno del Signore potrebbe essere la Pasqua intesa come il giorno in cui il risorto si è manifestato ai discepoli per la prima volta quel momento storico in cui è passato da morte a vita ma è un fatto del passato se lo leggiamo come giorno di domenica allora è uno dei giorni della settimana il giorno della celebrazione festiva per i cristiani in quel contesto presente Giovanni incontra il Cristo risorto ma giorno del Signore ha anche una valenza escatologica nel linguaggio degli antichi profeti il giorno del Signore è qualcosa di futuro è l'annuncio dell'intervento definitivo e quindi finale in cui il Signore farà giustizia metterà a posto le cose l'Apocalisse si gioca infatti su questi tre tempi è il ricordo del passato meditazione dei fatti già avvenuti della storia della salvezza ma attualizzazione nel presente di quella rivelazione fondamentale e attesa per il compimento futuro il fatto che i tre tempi si uniscano è tipico della liturgia infatti l'Apocalisse è un testo liturgico è nato nel contesto della liturgia potremmo definirlo una lezione divina in contesto liturgico è una meditazione sulle scritture durante la liturgia domenicale in modo tale che l'evento della morte e risurrezione di Gesù Cristo sia la chiave di lettura di tutta la scrittura antica e la lettura dei testi biblici alla luce di Gesù Cristo permette di capire il senso della storia che Giovanni e la sua comunità sta vivendo i problemi erano molteplici li accenno semplicemente c'erano problemi seri con il mondo romano l'imperialismo romano era sempre più invasivo Domiziano fu il primo a coniare monete con la propria immagine accompagnata dal titolo Deus et Dominus e la prima città nell'impero romano a costruire un tempio e a dedicarlo al dio Domiziano fu Efeso quindi una città politicamente fedelissima alla mentalità imperiale è chiaro che il gruppo cristiano non condivide questa visione un altro ambito problematico è quello col mondo culturale greco il culto di Artemide il mondo magico l'esoterismo teosofico in gran voglia nell'ambiente Efesino non piace e il mondo cristiano si sente schiacciato oppresso deriso da questa altra mentalità e non condivide quel modo di pensare si aggiunga inoltre la problematica col mondo giudaico perché dopo il 70 con la caduta di Gerusalemme il giudaismo si è dato una nuova impostazione e proprio perché non aveva più un punto di riferimento oggettivo come il Tempio di Gerusalemme ha dato alle regole sinagogali un valore molto più stretto e in quel contesto nasce la cosiddetta scomunica la Birkata Minim in cui si pronuncia in sinagoga una benedizione che chiede al Signore di sterminare gli Empi e gli Eretici colpisce proprio il gruppo dei Nazareni e i giudeo cristiani vengono messi fuori dall'ambiente sinagogale e si trovano abbandonati senza alcuna forma di protezione nei confronti dell'impero romano della cultura ellenista e in polemica col mondo giudaico tre fronti di combattimento all'esterno ma il più doloroso era interno perché la comunità giovannea ha sofferto una crisi interna di divisione di scisma lo comprendiamo dalla prima lettera in cui Giovanni parla di un gruppo di secessionisti sono usciti da noi ma non erano dei nostri e sono gli anticristi interessante che il termine anticristo non c'è nell'Apocalisse ma è molto usato nella prima lettera mettendo insieme i due testi perché di ambito giovanneo si è fatta una certa confusione l'anticristo per Giovanni nella prima lettera non è una bestia un mostro diabolico ma è al qualche persona che all'interno della comunità si oppone alla tradizione e va avanti con la sua testa rovinando ciò che era fin da principio e sono lassisti nell'Apocalisse vengono chiamati Nicolaiti forse perché seguaci di un certo Nicola ma non abbiamo nessuna informazione il problema concreto era di questo tipo il mondo antico non era laico ma profondamente religioso nessuna professione poteva essere esercitata in modo laico il medico come il macellaio dovevano appartenere ad una congregazione religiosa e quindi erano rappresentanti di vari culti religiosi essere iscritti all'albo professionale implicava appartenere al culto di una divinità il medico è un cultore di asclepio ed è tenuto a partecipare ai riti e a mangiare quelle carni immolate in onore di asclepio la comunità cristiana si domanda come facciamo? i Nicolaiti sostengono che si possa tranquillamente far finta di aderire a questi culti e partecipare tranquillamente a tutte le pratiche rituali del mondo greco romano per conservare la propria posizione la linea di Giovanni invece è rigorosa e dice che questo è un atteggiamento di prostituzione la prostituta è quella mentalità di chi si vende per interesse dice di amare perché è pagata è una finzione una falsità e allora l'immagine dominante nell'Apocalisse nella seconda parte della Babilonia prostituta è una figura della comunità del modo di pensare della stessa comunità giovannea di una parte di quella comunità e alla prostituta si contrappone la sposa la sposa dell'agnello è invece quella comunità che veramente aderisce al Signore Gesù per amore ed è pronta a seguirlo fino alla morte l'Apocalisse è un libro di consolazione ma soprattutto di incoraggiamento non è una pacca sulla spalla dicendo porta pazienza vedrai che cambierà ma è un invito a resistere fino al versamento del sangue è un autentico manuale di invito al martirio profeticamente Giovanni si è reso conto che quella situazione avrebbe prodotto per la comunità cristiana dei problemi molto seri non tanto al suo tempo quanto nei secoli successivi come effettivamente avvenne e l'Apocalisse divenne un manuale letto dai martiri conservato nelle tradizioni antiche degli atti dei martiri cristiani i quali in forza di quelle esortazioni erano pronti ad affrontare la morte pur di non buttare due grani di incenso nel bracere davanti a un idolo si poteva fingere tranquillamente e salvare la pelle Giovanni quindi incontrando il Cristo risorto in quel giorno di domenica riceve riceve un incoraggiamento e a sua volta viene scelto per incoraggiare i fedeli alla resistenza la parola la parola in greco è una delle chiavi di lettura della comprensione dell'Apocalisse la si traduce di solito con pazienza letteralmente è la radice del verbo rimanere un verbo molto caro a Giovanni rimanere nella parola rimanere fedeli a Gesù e upo è una preposizione che indica il sotto quindi rimanere fedeli sotto pressione mi sembra che la resa migliore in italiano del concetto greco sia quello di resistenza l'Apocalisse è un invito alla resistenza coraggiosa è la conservazione dell'insegnamento fondamentale di Gesù morto e risorto presentato come l'agnello viene evocato come leone di Giuda ma c'è un colpo di scena non compare un leone che sbrana ma un agnello sbranato l'agnello è il pastore l'agnello è il vincitore paradossi perché l'agnello immolato cioè Gesù Cristo morto in croce è una vittima perdente è lo sconfitto è l'ucciso il debole che non comanda il cuore dell'Apocalisse è il messaggio dell'agnello sgozzato ma in piedi con sette corna e sette occhi le corna sono il simbolo del potere e quindi sette corna dicono tutto il potere è onnipotente è l'occhio è l'organo della visione sette occhi vuol dire che ha una visione completa il Cristo morto e risorto ha tutto il potere e tutta la conoscenza ed è in grado di aprire il libro il progetto il misterion di Dio apre i sette sigilli è l'unico perché nessun altro né in cielo né in terra né sotto terra è in grado di aprire quel libro e così Giovanni attraverso una serie fantasmagorica di immagini annuncia che l'agnello è la chiave di lettura della storia quindi alla sua comunità che rischia di essere emarginata derisa buttata fuori dal consorzio sociale e culturale rivolge l'incoraggiamento alla coerenza alla resistenza alla resistenza eroica prospettando che quella è la strada della vittoria non eliminando l'altro ma rimanendo fedeli al progetto di Dio e Dio salva attraverso questa debolezza dell'agnello quando verso la fine del libro Giovanni adopera l'espressione che è stata scelta come titolo di questo festival biblico adopera un verbo al passato vedi un cielo nuovo e una terra nuova l'ho visto e il cielo e la terra nuovi cosa sono non è un'altra creazione non è l'altro mondo l'aldilà il mondo futuro ma è la nuova mentalità di Cristo che è già realizzata in questa storia cielo e terra nuovi sono un mondo completamente diverso un modo di pensare completamente diverso le visioni di Giovanni sono visioni del mondo l'apocalisse è un'autentica Weltanschauung cristiana è la visione del mondo secondo il Cristo morto e risorto e l'applicazione domenicale è l'impegno rivolto alla comunità liturgica ad applicare alla propria situazione contingente quello che è stato già realizzato da Cristo e che si realizzerà in pienezza nell'ultimo giorno il cielo e la terra nuovi sono caratterizzati in greco dall'aggettivo kainos in greco ci sono due aggettivi per dire il nuovo neos dice il nuovo recente semplicemente fatto da poco ma modello vecchio il kainos invece è qualche cosa di originale che prima non c'era e allora l'annuncio della città nuova della nuova gerusalemme del nuovo cielo della nuova terra è l'annuncio della novità di Cristo è la salvezza attraverso la sofferenza attraverso la perdita della vita il vincitore è il crocifisso il sovrano è l'agnello debole il pastore è lui e determina un cambiamento in greco catastrofe vuol dire capovolgimento noi italiani che spesso parliamo anche con le mani se vogliamo dire che le cose sono cambiate in modo decisivo accompagniamo la parola con un gesto della mano e capovolgiamo quello di sotto lo passiamo di sopra dicendo le cose sono cambiate da così a così ecco questo è il cielo nuovo è la terra nuova la mentalità di Cristo ha capovolto il modo di pensare del mondo questo capovolgimento è catastrofico nel senso buono però l'apocalisse non prevede sciagure e disgrazie altro altro che lugubre repertorio che annuncia la fine del mondo pieno di eventi negativi purtroppo l'aggettivo apocalittico è stato usato in questo senso ma apocalisse vuol dire rivelazione e quando si dice che la scena è apocalittica si intende dire che è rivelatrice di che cosa? del cambiamento che il Cristo risorto opera adesso nella storia attraverso la sua comunità non è una lugubre serie di sciagure e di annunci di fine del mondo l'apocalisse è uno splendido libro di speranza perché la speranza è radicata nell'agnello immolato e risorto è lui il re dei re e il signore dei signori grazie ringrazio Claudio Dolio per questa bella lettura che ci ha dato dell'apocalisse ci ha fatto capire come cioè perché è nata e come è stata intesa nel suo tempo io vi invito a fare anche delle domande molto semplici se volete per ottenere delle spiegazioni perché appunto poi alla lettura non è tanto consolatorio questo libro perché ci mostra in effetti è disvelativo ci mostra la realtà della condizione umana che è fatta appunto poi di guerre di sciagure di sventure di malvagità di avidità e tutto ciò porta a delle grosse sventure che attraversano il mondo e attraversano la storia ma il problema che io mi pongo poi taccio perché vorrei davvero che foste voi a interloquire il problema che io mi pongo è noi oggi riusciamo a credere a questo capovolgimento così radicale delle sorti del mondo riusciamo a credere a una speranza così radicalmente altra di un mondo di una nuova terra e di un nuovo cielo o questi simboli nuovo cielo e nuova terra servono appunto più che di consolazione effettivamente di incoraggiamento ci può essere qualcosa di nuovo ma noi ormai lo sappiamo che la storia è questa che la storia si ripete continuamente e questa visione cristocentrica e cristologica dell'agnello immolato davvero è vincitore davvero ha cambiato qualcosa nella storia del mondo o rimane l'agnello immolato e effettivamente ci porta a capire che è dal punto di vista dell'agnello immolato che dobbiamo guardare alla storia del mondo e quindi occuparci di questo agnello affinché non sia più immolato ma quando diciamo Cristo vince io mi sento qualcosa di distridente primo perché non ha vinto cioè ha vinto qualcosa è rimasto cioè come dire l'idea di un piccolo bene rimane e sopravvive e va coltivata e va amata e curata ma non è vittoriosa anche perché se fosse davvero vincente vincerebbe nel potere umano di questa terra e se vinci in un'altra terra in un altro cielo allora è un'altra cosa quindi secondo me queste contraddizioni nel testo vanno aperte vanno attraversate perché altrimenti continueremo a leggerlo pensando che è un testo che ci consola ma non ne saremo consolati ecco questa è un po' la provocazione che mi viene da lanciare ma se voi invece ne avete un'altra percezione vi invito o comunque insomma anche altre domande anche molto semplici per capire alcuni di questi simboli che sono così difficili eccetera vi invito a esternarle con molta semplicità con la vostra curiosità con le vostre considerazioni lei ha dato voce proprio alle domande che gli uomini e le donne della comunità giovannea ponevano a Giovanni se è vero che l'agnello è il vincitore perché le cose vanno così male? sì ma anche se diventasse davvero il vincitore il Christus vincit della tradizione che insomma poi è diventato bandiera identitaria che non è una bellissima cosa no cioè se vince non è l'agnello immolato il che non vuol dire che l'agnello debba rimanere immolato e debba continuare ad essere ucciso ma vuol dire che la comunità umana si deve si deve prendere cura dell'agnello senza attendere questo rinnovamento il cielo nuovo e la terra nuova è proprio il nuovo modo di concepire il vincere perché rischiamo di ragionare sempre con un criterio umano vince chi domina l'altro chi elimina l'avversario solitudine faciunt et pace mappellant hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace e sono i vincitori l'agnello non vince così però non possiamo dire che vince possiamo dire che ci mostra che è possibile un altro modo di aver cura dell'agnello ecco però noi non possiamo a te cioè lo sappiamo anche dalla cultura dalla scienza appunto non possono entrare in competizione pensiero religioso pensiero scientifico però ecco sappiamo che come dire la terra si impoverisce vista dall'alto dai cieli dello spazio non è più azzurra non è più il pianeta azzurro è il pianeta grigiastro ecco quindi questo è semplicemente così un incitamento a a poter assumere un atteggiamento diverso ma io non credo che il mondo sarà mai personalmente non credo che il mondo sarà mai redento perché il mondo è questo questa è la storia ecco è sempre forte questo principio di distruzione ma la vittoria dell'agnello sta proprio nel dare valore allo stile di Cristo riconoscendo che quello è lo stile buono che fa andare bene il mondo e che salva la terra provate a pensare a tutte le figure di santi che conoscete arrivate anche a quelli più recenti più vicini a noi in che senso hanno vinto nel momento in cui vengono proclamati santi si riconosce che hanno fatto bene che la loro vita è stata bella e buona pensate a un Charles de Foucault recentemente canonizzato cosa ha fatto nella sua vita cosa ha vinto ha convertito un paese alla religione cristiana ecco questa sarebbe l'idea sbagliata di vittoria l'agnello vince perché arriva in un paese musulmano e dando buona testimonianza alla fine della vita tutti i musulmani sono diventati cristiani allora ha vinto invece ha testimoniato è stato ucciso è finito lì non è cambiato niente e la sua vita è stata sprecata inutile no la sua vita è come quella dell'agnello non perché è stato ucciso ma perché ha vissuto lo stile dell'agnello e noi riconosciamo che quella vita è buona è valida il linguaggio della vittoria purtroppo ci richiama la guerra e il vincitore è il più forte che schiaccia e distrugge l'altro e ci dà fastidio ma la novità del cielo e della terra dell'apocalisse è rispetto proprio al concetto di vittoria l'apocalisse era per un piccolo gruppo di perseguitati quando la chiesa è diventata l'impero ha perso la carica consolatoria e incoraggiante ed è diventata la materia di decorazione dei catini absidali dove il pantocrator è la figura dell'imperatore cristiano Cristo domina vince come l'imperatore che vince allora la vittoria dell'agnello serve per far vincere il nostro imperatore questa è una deformazione dell'apocalisse non è l'apocalisse tant'è vero che si è perso l'uso chi ha conservato l'uso dell'apocalisse i piccoli gruppi poveri i minoritari gli eretici i lettori dell'apocalisse dal mondo antico fino ad oggi sono piccoli gruppi minoritari ecco io vorrei sentire voi però è molto stimolante anche dialogare con con don Claudio d'oglio ecco volevo dire che però allora vite buone e sante cioè vite buone e giuste le hanno condotte anche le conducono anche molti non cristiani questo vabbè è ovvio insomma ecco sentiamo sentiamo grazie sono perplesso quando soprattutto quando l'ho sentito dire che non prevede mi può dire il nome Carlo che non prevede né sciagure né disgrazie io mi sono nel mio piccolo mi sono avvicinato all'apocalisse ho cercato di indagare e insomma sono perplesso perché per tanti motivi innanzitutto anche lì viene detto il tempo è vicino ma è umanamente parlando noi sappiamo che per Dio mille anni sono come un sol giorno e un solo giorno come mille anni quindi il tempo umano è molto relativo rispetto a quello divino tuttavia dice il tempo è vicino ma prima della fine elenca tutta una serie di eventi indica che anche nella sua misericordia io rimprovero e castigo coloro che amo lo dice il signore in un passo quindi è con misericordia che lo fa però tuttavia il castigo e il rimprovero ci sono e l'apocalisse è pieno inoltre non ho mai sentito un'analisi di quella ci sarebbero tanti spunti devo limitarmi ovviamente l'ultima cosa che vorrei non ho mai sentito un teologo di punta e ne sono tanti che pubblicano di continuo analizzare un'analisi di quella di quella di quel passo finale chi aggiungerà qualcosa e chi toglierà qualcosa io toglierò dall'albero della vita cioè la vita eterna e chi aggiungerà subirà tutti i castighi che sono indicati non ho mai sentito un teologo di punta analizzare questo avvertimento grazie sentiamo qualcun altro direi così poi il padre risponde c'è una mano alzata no mani abbassate mi spaventa l'apocalisse e ne avete ragione avete ragione allora la signora la signora il nome per piacere Augusta Augusta ecco come si fa dopo duemila anni poter sperare ancora in questa speranza che ci offre Giovanni nell'apocalisse perché dopo duemila anni avremmo l'umanità avrebbe dovuto capire qualche cosa ma invece dopo duemila anni come diceva la conduttrice la storia è sempre quella e se non siamo riusciti a capirlo dopo l'ultima sua espressione è colpa della chiesa stessa qualcun altro dai facciamo tre così poi ecco lei si chiama no no non metta la mascherina per parlare ecco forse in questo mi è sembrato forse illuminante Don D'Olio perché non è un testo l'apocalisse mi è sembrato di capire di insegnamento ma di sguardo oltre che attraversa la realtà dell'umanità che è inequivocabilmente quella che voi avete già citato e che probabilmente difficilmente cambierà però in effetti pensando anche a quel fenomeno penso successivo a tutte le persecuzioni di quel contesto storico in cui c'era il fenomeno dei lazi no che avevano anche provocato disagio e divisioni all'interno della chiesa cioè quelli che in qualche modo si erano piegati alle pratiche diciamo di culto imperiale e poi volevano ritornare insomma nella comunità cristiana quindi è un grande problema però lì vince la misericordia ecco forse la lettura che guarda la storia anche con i suoi crimini e con le sue contraddizioni tragiche e violette va nell'affidamento cioè l'agnello che sta ritto anche se è stato dilaniato in qualche modo però si è affidato e questo affidamento secondo me ci fa alzare lo sguardo e attraversare anche questi drammi se vuole rispondere forse cinque minuti vero? ecco cinque minuti non di più sono domande che investono tutta l'apocalisse per poter rispondere in modo esaustivo bisognerebbe fare una lettura versetto per versetto ok kairos engus il tempo è vicino vuol dire che sta per finire il mondo? io ritengo di no il kairos è l'occasione buona se traducessimo l'occasione buona è a portata di mano nessuno pensa alla fine del mondo l'annuncio dell'apocalisse è una occasione buona disponibile per te qui e adesso non prevede cataclismi nel senso che descrive che ci sono queste disgrazie e sono le situazioni negative dell'umanità c'erano nel passato e ci saranno non è la previsione di qualche cosa che capiterà da considerare come pronostico futuro quella chiusa è un elemento letterario che si ripete abitualmente nei testi apocalittici dato che l'elemento rivelatore è molteplice la chiusa è nessuno si permette di aggiungere qualcosa ma non togliete neanche niente e c'è un avviso minaccioso che appartiene a quel genere letterario come dire prendi la rivelazione ma non utilizzarla per aggiungerci le tue idee né per togliere quello che ti dà fastidio capire l'apocalisse non è facile capire la storia ancora meno oggi molti studiosi dell'apocalisse anche della stessa struttura religiosa quindi pensate preti italiani che insegnano la stessa disciplina danno spiegazioni diverse di molti versetti e quindi vuol dire che il testo è aperto a molteplici interpretazioni difficilmente però trovate qualcuno che oggi saggiamente dica che prevedeva la guerra in Ucraina è possibile è possibile fare un discorso del genere perché la bestia che sale dalla terra è l'immagine del potere ideologico corrotto che appoggia la bestia che sale dal mare il potere politico corrotto e allora potremmo dare anche un nome alle due bestie e dire che l'Apocalisse l'aveva previsto no succede succedeva e purtroppo succederà ogni dittatore ha un profeta che lo appoggia la storia è una maestra di vita senza alunni per cui effettivamente l'unica cosa che conta davvero è affidarsi al Signore confidare nell'agnello possiamo avere speranza proprio perché lui è la chiave di lettura di tutto e speriamo di fare come lui dobbiamo chiudere ci dice Roberta vuole dire una parola agli altri due? Già detto no anche gli altri va bene va bene allora dobbiamo lasciare perché ci sono altri incontri vi ringrazio molto Don Doglio e ringrazio tutti voi per essere venuti e per aver ascoltato queste parole le parole dell'Apocalisse e vi invito a leggere questo libro e a porci delle domande che anche nei prossimi giorni potremo continuare a porci perché vedremo altri aspetti di questo libro così difficile e così inquietante grazie grazie buona serata grazie mille Gabriella caramore Don Claudio D'Oglio un avviso in fondo c'è il punto libreria San Paolo con in vendita i libri di Don Claudio D'Oglio ma dei vari ospiti che si susseguiranno grazie a tutti